Giornata di disagi nella sanità, nel lunedì che precede il giorno di Natale ad incrociare le braccia per uno sciopero i medici e sanitari. Per 24 ore molti dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale hanno fermato l'attività concernente ai servizi della sanità ospedaliera e territoriale, non indispensabile per le diagnosi, le cure non urgenti, la sicurezza e le forniture alimentari. L'ultimo sciopero del settore poco più di 10 giorni fa. A Napoli Cisle Medici e in aggiunta ai gruppi delle altre sigle sindacali in sanità hanno attivato un presidio in piazza del plebiscito davanti alla sede della prefettura. Il neoprefetto di Napoli Michele Di Bari ha incontrato i rispettivi rappresentanti di medici, infermieri e veterinari intorno alle 11 ascoltando le loro istanze. È l'ulteriore chiaro segnale del sentimento di insofferenza del settore nei confronti della legge di bilancio messa in campo dall'esecutivo del governo Meloni. Il commento di Giuseppe Galano, presidente regionale a Roi e Emac, associazione anestetisti e rianimatori ospedalieri italiani e di Agnello Pietro Paolo, segretario generale Cisle Medici. In questo momento non solo siamo stati penalizzati in termini di risorse ma anche sono stati penalizzati i nostri stipendi, le nostre pensioni. A questo livello non vi è garanzia dei servizi per cui ricerchiamo di richiamare l'attenzione sulla classe politica che in queste ore sta appunto discutendo della finanziaria, sperando che possano essere fatti ancora degli aggiustamenti perché così com'è non ci convince.